Teodora Film è orgogliosa di presentare il film che ha trionfato all'ultimo festival di Roma. Dalla regista di Dopo il matrimonio e Non desiderare la donna ad altri. Elias! Papà! Che bello rivederti. Il film più atteso della stagione. L'assenza del padre è un grosso problema per lui. E se poi a questo aggiungiamo i problemi fra voi due, quali problemi? Che vuoi dire? Spiegati. Ragazzi, vi presento Christian. Un nuovo compagno. Sono fiero di te. Anche la mamma lo sarebbe. Non serve che mi parli così, papà. In un mondo migliore. Ricordatelo bene, faccia di topo. Se ti fai scappare qualcosa, sei morto, capito? Avrebbero pensato tutti che sono un vigliacco. Se tu lo picchi, lui ti picchia. Poi lo picchi tu e va avanti all'infinito. Come una guerra. Non se colpisci duro la prima volta. Perché litigate? Tu non toccare mio figlio. Non farti più vedere. Vattene via! Quel bastardo se lo merita. Sono d'accordo. Fantastico! Non possiamo stare qui, è proibito. È lui, l'uomo che ha picchiato tuo padre. Papà, mi senti? È una cosa tanto, tanto grave. Dovevo dirtela. Così non si arriva da nessuna parte. Che mondo sarebbe se facessimo tutti così? Io non ti ho mai mentito. Tu dicevi che la mamma sarebbe guarita. Vuol dire che hai ingannato sia me che la polizia. Lo so, ho commesso tanti errori. Io ti amo. Tu non devi stare qui. Lo capisci questo? In un mondo migliore dal 10 dicembre al cinema.